ciao a tutti sono giacomo montanari e oggi vi parlo di un dipinto davvero importantissimo che è il ritratto della famiglia lomellini di anton van dieck che si trova alla national gallery of scotland di edimburgo che anton van dieck forse non bisogna neanche specificarlo più di tanto ma il suo rapporto con genova è un rapporto invece importantissimo che segna tutta una parte della grande tradizione pittorica ligure del primo seicento van dieck sta in città più o meno interrottamente anche con qualche invece divagazione tra 1621 e il 1627 e uno degli ultimi dipinti che realizza è proprio questo straordinario ritratto di famiglia un ritratto di una famiglia estremamente importante in quegli anni questo ritratto si trovava infatti nel palazzo che si trova in largo zecca palazzo lomellini patrone che viene decorato proprio in quel momento da un personaggio all'apice del proprio successo personale giacomo lomellini doge della repubblica tra 1625 e 1627 che aveva avuto un merito straordinario era stato infatti lui che era riuscito tramite la sua forza e anche i suoi addentellati politici a respingere l'aggressione violentissima che giunse a sfiorare l'annessione di fatto della repubblica del duca di savoia carlo emanuele primo e allora il lomellini diventò una sorta di eroe nazionale tanto che sulle volte del suo palazzo dove stava anche questo meraviglioso ritratto si trova affrescata la storia di ester tratta dal grande libro di asaldo ceba che narra proprio di come i piccoli quindi la repubblica in questo caso hanno la forza di sfidare i grandi con l'impiego di virtù e di esercizio delle proprie abilità ecco che dunque il ritratto di van dick assume una doppia valenza da un lato certo è un ritratto di famiglia come ne fece tanti anton van dick da quel momento spiccol balzo li realizzerà poi per la dinastia ad esempio di carlo primo re d'inghilterra ma questo ritratto una valenza particolare intanto perché il buon giacomo lomellini non è presente sulla scena questa era una prerogativa dei doji che potevano avere ritratti ufficiali ma non farsene fare altri oltre a quelli che servivano come testimonianza del proprio ruolo proprio per non indurre in tentazione di un culto della personalità che in uno stato repubblicano era assolutamente disdicevole dal punto di vista dell'autorità stessa dall'altro perché compaiono dei personaggi meravigliosi no guardate quest'uomo giovane nel pieno delle forze che porta una corazza in mano una lancia spezzata oppure un altro sempre in età leggermente più giovane ma già in età matura a fianco a questa donna che chiaramente la seconda moglie di di giacomo con i due figli più piccoli sono i figli di secondo letto ma la preminenza di quest'uomo armato ci svela anche la sua identità e gli infatti è nicolò lomellini il figlio maggiore di giacomo che si era distinto proprio in quale episodio in questi episodi incredibili della cacciata dei sabaudi dai territori della repubblica e che avevano fatto della dinastia dei lomellini quella di davvero protettori della patria ecco che il pennello di van dick sempre così indagatore così attento così palmare ed epidermico nella resa di questi incarnati anche se vogliamo del fastidio che l'essere ritratti e quindi stare in posa magari a lungo tempo e con abiti non consoni non sempre quelli che si indossavano diciamo tutti i giorni suscita in questi familiari ritratti li si vede quasi un po sul chi vive un po spaesati un po in movimento ecco c'è un soffio vitale nella pittura di van dick che lo rende infatti il più grande ritrattista di tutti i tempi per genova insieme a pietro paolo rubens suo maestro e di questo ritratto meraviglioso che oggi noi dobbiamo andare in scozia a vedere però rimane la memoria in questo incredibile palazzo dei rolli cioè nel palazzo lomellini patrone in largo zecca che speriamo presto di riavere tra i palazzi aperti in questa meravigliosa manifestazione grazie a tutti